Oggi pomeriggio prepareremo insieme una ricetta facile e veloce con solo 4 ingredienti, ottima per la merenda. Guardiamo quindi insieme gli ingredienti che ci servono per preparare questa ricetta. 100 g di biscotti pandisselle, 100 g di mascarpone, 150 g di yogurt greco e 50 g di zucchero a velo. Per prima cosa andiamo a tritare i nostri biscotti nel mixer. Ora prepariamo la crema unendo lo zucchero a velo allo yogurt. Aggiungiamo il mascarpone e continuiamo a mescolare. Una volta ottenuto un composto ben amalgamato e senza grumi, siamo pronti per andare a comporre le nostre coppette. Prendiamo quindi un cucchiaio di biscotti tritati e lo andiamo a mettere sul fondo della nostra coppetta. Io non amo utilizzare la sac à poche, quindi andrò a mettere cucchiaiate di crema sopra ai biscotti. Metto qualche briciola di biscotto sopra, un pezzetto di pandistelle e le mie coppette sono pronte. Le lascio riposare in frigorifero fino al momento di servirle. Grazie. 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 Grazie.